Cari amici appassionati di tecnologia, bentornati in questo nuovissimo video! Io sono Martin, in questo video... In questo video porterò una challenge a prova a non dire wow. In cosa consiste? Allora, praticamente, appena dirò wow, il video terminerà. Quindi non avrò modo di salutarvi, di ringraziarvi, di mettere un bel like, di iscriversi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se avete capito, appena dico wow, termina immediatamente il video. Immediatamente il video. Mannaggia, cosa mi tocca fare? Il video, reagirò a un video che dice che è impossibile non dire wow, 99,97%, ma... Ma io sono più forte, cioè... Sono più forte, probabilmente ce la farò. A meno, cerchiamo di arrivare a 5 minuti di video. Il video dura 10 minuti, la metà, per favore, Marte, la metà, ci devi arrivare. Ci devi arrivare, eh, 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 eh. Ok, ora, mentre reagirò al video, purtroppo non metto la mia faccia. Cioè, sentirete il mio audio, ovviamente, se non è inutile la challenge. Non vedete la mia faccia, perché avendo un computer vecchio, se non avete ancora visto il video dove vi mosso tutta la mia postazione e la mia camera, date a vederlo, perché vi farò vedere anche il mio computer, l'altro mio nuovo monitor, è un computer del 2010, è un Mac del 2010, quindi ovviamente è un po' in ritardo. Ok, quindi adesso vi faccio quello che di solito faccio a fine video. Mettete un bel like a questo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, arriviamo ai 1000 iscritti. Ce la potremo fare ad arrivare ai 1000 iscritti a fine anno, il nostro obiettivo, ve lo dico ogni ogni video, purtroppo, però dobbiamo superarlo. Direi di andare subito a reagire a questo video, ma prima di tutto non potrò dire wow, che figo, ci sta un botto. Potrò dire solo che bello, bello e basta. Vabbè, ragazzi, direi di passare subito alla schermata del Mac. Ok, ragazzi, come potete vedere non c'è la mia manca, ma ci accontentiamo di questo. Ovviamente sentite il mio audio, quindi appena dirò wow, che figata, ci sta un botto, lo sentirete e si sto a operarvi io. 3, 2, 1, inizia la challenge! Partiamo! Ok. Qua c'è... No way! Si stacca il disegno dallo specchio. Qua è una bottiglia. Ma è sentito... No, sta salendo l'acqua, ma... Stavo per dire quella parola che non posso dire, eh. Cioè, veramente, se 27 secondi la stavo per dire, mi son fermato, perché veramente non può durare un minuto di intro e 27 di video, perché veramente... Cioè, veramente, 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 so stupido. Andiamo avanti, va. Marte, non dire quella parola. Non dire quella parola. Non dire. Non dire. Non ci saranno tagli durante il video, eh. Quindi se vi impippo, cioè... Quindi se vi inceppo e non... E vedete che non l'ho tagliato è normale. Allora, qua, bello questo. Bello va bene, rega. Non andate a scrivere, non l'hai detto bello. Bello, avevo detto, già inizio il video che ci sta. Ah, qui si sovrappongono con le due persone. No! È una generata questa, eh. Cioè, per far prima è una generata questa. Ok, ragazzi, scusatemi se si è interrotta la registrazione, ma non ci posso fare niente. Sto computer fa veramente schifo. Ok, ragazzi, mi si è soppatta la registrazione, perché tutti a me, non è possibile. Siamo arrivati a questo punto. Ripartiamo da qua. Eh, mannaggia. Ma niente di che. Niente di che è questo, dovrei dire. E l'ha tirata addosso alla persona. Ai passanti. Non ho capito cosa sia, però. Questa è colla o è tipo un formaggio? Boh, non lo so, non capito. Sì. È una testa? No, che schifo. Che schifo, giapponesino. Maronne mie. Che bello questo tavolo. Da scappare diventa un tavolo. Bello va bene, eh. Ripeto, bello si può dire. Ah, qua un sacco di fontane. Tanto lag. Un sacco di fontane. Intanto qua. Intanto questo. Intanto mi si stoppa il biglione. Non ho capito che cibo sia, però... Bello, bello. Ah, qua è come fanno gli stampi. Non posso dire quella parola. Che se avessi avuto l'opportunità di dirla l'avrei detta, però adesso non posso. Guarda quelli sotto, pieni di palloncini addosso. Cos'è che mi sta facendo? Non ho capito. Però va bene. Ah, qua come si... come fanno a stampare le magliette? Proffi. Vabbè. Ma qua sta carinando su un ghiaccio, penso. Oh, questo è stranilassante! Con quei video... Oh, impossibile non rilassarsi. Ah, qua soprapponerà sicuramente le cose. È come se non ci fosse niente. GG. GG. Scusa, sarà un'arancia. Eh, infatti. Oh, succo d'arancia, che buono! Mi si è stobbato il video così a caso. Bello, bello, lo posso dire. Mi sono spaventato. Questo sta arricciando un pezzo di ferro, va bene. Ah, questi li vengono un sacco io. Quando se faccio tipo il bagno e... Quando faccio via tutta l'acqua, c'è questo tornado che fa bello, bello. Poi vedi la foglia che va giù, eh? Cioè, la vedi anche sul tornado che va giù la foglia. Oh! Ah, questo ho capito. Anche in una disposizione diversa funziona. Eh, questo non l'ho mai capito. Non l'ho mai capito. Cosa sta facendo? Che schifo. Ma che schifo è? Mi direi che lo pulisce meglio. Lo sporchi per poi pulirlo meglio. Boh, non ho visto... Cioè, mi ha fatto vedere così tanto veloce, non ho capito. Vabbè, questi toni li riconosco. I bambini in tre anni per farli volare, non li mettete. No, non so. Bella sta bolla. Ehi, 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 brava, brava. Ah, è sabbia. Rimane tutti in piedi. Guarda. Non posso dire quella parola. Cosa è che sta facendo? Ah, la crescita di... Sto morendo. La crescita di funchi. Bello, bello. Vedi, se non potessi dire bello, avrei già perso. Quindi, bello si può dire, dai. Anche se l'avevo già detto inizio video. Questa lo creano un finto legno, praticamente. GG, grandi. E raga, cioè, vuol dire che mi... Cioè, tutti i legni che ho... Allora, ho visto due cose. Vuol dire che tutti i legni che ho, il parquet che ho in casa è tutto finto. Tutto finto perché... Perché... Farsi vicare un legno. E poi, guarda, un legno... Vedi, lo sapete i legni? Tipo, in casi di montagna ci sono queste robe, questi tipi di legni. O degli assi. Che sono fatte così. Vuol dire che sono false? Naci loro. Pizzaiolo cinese. Assumiamolo subito in Italia. Guarda, guarda. Bravo, bravo. Guarda, io so che fiero che è, un sorriso. Questa è una maschera, penso. Boh. Questa pubblicità mi ha un po' rotto. Sì, sarà una maschera. Però che schifo, cioè, a me di sentirsi... Sembra qualcos'altro, raga, però non voglio dirlo. E' come se fosse gelatina. Eh, stai calmo, però, eh. Cioè, adesso non viene tutto, ma devi calmare. Be nice. Cos'è che sono? Vedi che... Le fanno due per ogni... Per ogni slot. Guarda, guarda, guarda. Bello. Mi sta cucendo i capelli. Mi sta cucendo i capelli. Due strani, ci risate. Tutorial su come fanno... Fanno crescere i capelli alle Barbie e tutti i pelusci. Nooo. Bello, rilassantissimo questo. Che figata. Nooo. Ciao. 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 Grazie a tutti.